Ogni anno in Italia vengono diagnosticati oltre 49.000 nuovi casi di tumore al polmone, ovviamente con una distribuzione differente fra i sessi, essendo ancora prevalente nel sesso maschile questo tipo di neoplasia solida. Quello che occorre dire nei casi diagnosticati sulla base della sintomatologia clinica o delle alterazioni radiologiche, oltre il 50% dei nuovi casi sono diagnosticati in malattia metastatica, quando l'unica possibilità terapeutica è rappresentata da terapia sistemica. Inoltre occorre dire che, diversamente da altri tipi di tumore, il rapporto fra incidenza e mortalità è molto elevato, perché la mortalità nel primo anno dalla diagnosi si aggira attorno al 70-80%, questo è ovviamente differente in altri tipi di tumore che sono frequenti, come il carcinoma della prostata, ma che sono caratterizzati da una vita naturale molto superiore. Come intervenire su questi numeri? Da una parte, nella malattia avanzata, noi abbiamo nuovi approcci farmacologici rappresentati dalle terapie bersaglio molecolare e dall'immunoterapia, ma quello che potenzialmente può avere un impatto significativo sulla sopravvivenza a lungo termine del tumore del polmone è rappresentato dalla diagnosi precoce. Perché oggi si parla di diagnosi precoce e non dieci anni fa? Beh, la ragione viene dai risultati di importanti studi randomizzati che hanno dimostrato come l'impiego dell'attacca spirale a basso dosaggio è in grado di ridurre la mortalità a cinque anni del 20%. E ancora, in misura più rilevante, occorre segnalare che i casi di tumore del polmone che vengono individuati attraverso l'utilizzo dell'attacca spirale a basso dosaggio, in oltre il 60% dei casi sono forme iniziali di tumore. Con il manifesto polmoniamo cerchiamo di attrarre l'attenzione non soltanto di quelli che sono i players tradizionali, intendo gli oncologi medici, i chirurghi toracici, gli specialisti della malattia dell'apparato respiratorio che contribuiscono alla diagnosi, ma anche i radiologi, i radioterapisti. Vogliamo andare oltre, vogliamo aprire a questo problema e vogliamo comunicare questi dati anche ai medici di medicina generale con un coinvolgimento attivo dal basso verso l'alto della comunità scientifica dei medici di medicina generale affinché siano, come dire, dei testimoni allattivi negli individui ad alto rischio, invitandoli a partecipare a questi programmi di screening. Allo stesso tempo intendiamo sensibilizzare sempre di più la classe politica italiana e al contempo vorremmo anche aggiungere la classe politica europea per far sì che lo screening del tumore del polmone trovi una legittimazione nell'ambito delle regole del Servizio Sanitario Nazionale con pari dignità come oramai hanno la diagnosi precoce del tumore della mammella, del tumore della cervicioterina e del tumore del colon retto.